Quali sono le conseguenze dell'utilizzo prolungato degli opioidi nel dolore post-operatorio e come si può intervenire? Se ne parla a Bari durante la 46esima edizione del congresso nazionale dell'AISD, l'Associazione Italiana Studio Dolore e noi approfondiamo il tema con il professor Consalvo Mattia. Professore si parla sempre di più dell'utilizzo degli opioidi e a volte anche di un utilizzo eccessivo di questi opioidi, soprattutto collegato al post-operatorio. Quando vengono prescritti gli opioidi nel post-operatorio e tendenzialmente per quanto tempo? Gli opioidi sono il farmaco fondamentale per trattare il dolore acuto post-operatorio nei grandi interventi chirurgici perché è necessario ridurre il dolore per fare in modo che il paziente possa recuperare il prima possibile ed essere perciò di nuovo in grado di muoversi, di accudire, di fare tutto quello che noi vogliamo per un immediato recupero. Nello stesso tempo dobbiamo preoccuparci del fatto che il paziente non prolunghi al di fuori del periodo da noi impostato l'utilizzo degli opiacei. Questo richiede un'attenzione soprattutto nei pazienti fragili e la possibilità perciò di ridurre già dal post-operatorio la quantità di opioidi da somministrare al paziente. Cosa può comportare questo utilizzo del paziente nel lungo tempo? Ci sono delle conseguenze? Ci sono delle conseguenze che sono più evidenti adesso negli Stati Uniti, in Italia e in Europa in generale. Ancora abbiamo dati relativamente di scarso incidenza di questo problema, cioè di pazienti che poi continuano a farsi prescrivere opioidi dal proprio medico di medicina generale per un periodo anche molto lungo diventando in qualche modo direttamente se non dipendenti ma almeno obbligati ad assumere questo farmaco. Per cui noi dobbiamo prevenire questa situazione. Per prevenire avete state pensando a delle strategie di cui ne parla oggi anche durante il congresso, strategie che prevedono un po' la riduzione degli opioidi. Ecco, ce le spiega meglio? Non possiamo semplicemente limitarci a ridurre gli opioidi per questa paura. Dobbiamo affiancare agli opioidi degli altri farmaci, farmaci che agiscano su recettori e su ovvie del dolore diverse in modo da avere tanti punti di attacco. Il dolore ha tanti modi per essere trasmesso e recepito dal paziente e noi dobbiamo sfruttare i modi per controllarlo. Quello che è una strategia multimodale del trattamento post-operatorio che prevede l'utilizzo soprattutto di paracetamolo e in qualche caso anche di antinfiammatori non steroidei. Adesso abbiamo a disposizione anche farmaci che sono direttamente associati insieme paracetamolo e antinfiammatori in modo da poter ridurre la quantità di opioci. Se partiamo fin dall'inizio con una quantità inferiore il rischio che gli opioci poi vengano utilizzati successivamente per un lungo periodo probabilmente si riduce. Professore è un po' provocatoria come domanda finale ma potremmo anche non utilizzare per niente l'opioide nel post-operatorio o comunque una certa quantità ci serve per il controllo del dolore? La cosiddetta opioid free analgesia sta trovando in letteratura internazionale dei grossi dubbi sta sollevando mentre sicuramente una ridotto utilizzo di opioci è la strada corretta.